All'inizio la prima cosa che ci ha attratto è il nome Perché l'amore non conviene? L'amore non conviene lo pensa il personaggio del film Che è un professore che vuole insegnare agli alunni a non innamorarsi Perché ritiene che innamorandosi si corrono dei rischi e si può soffrire Naturalmente i suoi alunni che lo prendono in simpatia anche se lui è un po' matto Lo convinceranno del contrario E' un po' le fanno che sono capace di una persona che si può soffrire Che ci sono capace di un po' matto Che ci sono capace di un po' matto Che ci sono capace di un po' matto E' una cosa che ci sono capace di un po' matto Ma la sua vita è molto attrazione come lettori tramite questo romanzo? Il mio punto di vista naturalmente non è il punto di questo personaggio allora il professore il mio punto di vista è dimostrare il contrario perché alla fine gli alunni convinceranno il professore che l'amore conviene sempre ovviamente non è proprio la visione della visione ma è la visione della visione ma è la visione della visione che hanno iniziato alla visione che hanno iniziato alla visione con l'amore dell'amore che lui stesso il professore finirà per rinnamorarti? Anche l'amore nell'amore e l'amore è sempre un argomento vivo tra le generazioni di noi giovani, per esempio negli anni 60 c'era una forma diversa, gli occhi e poi alla fine in questo romanzo, come viene rappresentato l'amore, che concetto ha per questi ragazzi? Per i ragazzi è molto molto importante, ma l'amore in generale, l'amore passione, qui si parla soprattutto dell'amore tra un uomo e una donna, è importante, ma ci si corrono sempre dei rischi. Questo professore è stato lasciato da sua moglie e ha sofferto così tanto da decidere di non vivere più questo sentimento così importante. Quindi è un uomo vinto dalla vita, che ha deciso di non vivere, ma di dare affetto a questi alunni, ai quali lui vuole molto bene. È una persona che ha una grande umanità, quindi i ragazzi si affezionano a lui e vogliono salvarlo. Ma tutto qua. E' un'altra cosa? Come hai visto l'idea di tradurre proprio il tuo romanzo in arabo? Come vedi la cultura araba? Mi fa moltissimo piacere. Io sinceramente conosco poco la cultura araba, però mi fa molto piacere che il libro possa essere apprezzato. Sono curiosa di vedere come i ragazzi, perché è un libro che si rivolge anche molto ai giovani, accolgono questa storia. Penso che l'amore tra un uomo e una donna sia un concetto universale. Penso che l'amore tra l'amore tra l'amore tra i ragazzi e come possono comunicare tra loro. Ma questo libro parla anche di un rapporto tra generazioni, tra un professore, un adulto e i ragazzi. E come possono comunicare tra loro? E ovviamente il libro e la storia che si rivolge anche la storia tra i ragazzi e i ragazzi e i ragazzi. Come vedi la letteratura italiana? è famosa qua per quanto riguarda l'amore, grazie a Alberto Moravia che è molto apprezzato qua, questo come lo vedi, come ti fa sentire? Alberto Moravia è un grande scrittore che ha parlato molto d'amore, ha parlato di rapporti tra gli uomini e le donne in modo molto profondo e quindi mi fa molto piacere che sia stato apprezzato qui. Anche Alberto Moravia è un grande discorso che ha parlato di amore e il amore, questo è un'acquesta che mi ha parlato di amore e che mi ha parlato di amore, che mi ha parlato di amore di amore e che sia un'acquesta di amore. Io voglio dire che la storia della storia è un po' di amore, ma anche la storia di amore potrebbe essere un po' conservatrice, un po' chiusa rispetto a quelle occidentali. Allora questo magari che parla un romanzo che parla d'amore potrebbe avere più orizzonti più aperti, magari qualche idea che può essere criticata da qualcuno qua. Come la vedi questa cosa? Sì, in effetti probabilmente in Italia i rapporti tra ragazze, insomma tra uomini e donne magari possono essere un po' più liberi diciamo, però è un motivo in più per vedere come possono reagire i ragazzi arabi. Ovviamente, come la faccia della ragazza, ragazzi e ragazzi, ragazzi. Hai ragazzo, hai ragazzo, hai ragazzo, hai ragazzo? Hai ragazzo, 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 hai ragaz CREADO, CREADO, CONITAPIO ARABA più grande si trova a Milano. Sì, sì. Hai contatto con Milano? Conosci qualcuno delle comunità arabe? No, ma ho fatto amicizia con una ragazza della radio vostra, che ha vissuto a Milano cinque anni. Sì, io non ho una relazione molto forte con la comunità arabe, ma ho studiato a una ragazza di una ragazza di Milano. Sì, l'Italia ha una situazione speciale, come un piccolo, come un piccolo, come un piccolo, come un piccolo, come un piccolo. Allora, volevo chiedere, l'Italia viene molto apprezzata da noi arabi, da noi egiziani soprattutto, per la cultura del Mediterraneo. Ma vorrei vedere l'altro, come viene visto in Italia. Tipo, per esempio, c'è un ragazzo senegalese, Khaled, che è musulmano. Come viene visto l'altro da voi? Allora, questo dipende dalle persone. Generalmente adesso c'è una grande immigrazione in Italia e quindi purtroppo ci sono alcune persone che sono insofferenti a questo fenomeno, però ce ne sono molte altre che invece no. E in particolare questo personaggio, Khaled, è uno dei tanti ragazzi che vendono i calzini in Mestrada, ce ne sono molti a Roma. E, per esempio, il professore dimostra molta umanità nel suo confruttio, è diventa un suo amico, che non è una cosa abbastanza rara. E, per esempio, il professore di questo, che è un figlio di cui è un figlio di cui è un figlio. E, per esempio, il professore di questo figlio è un figlio di cui è diventa un figlio di cui è diventa un figlio. E questo è un figlio che non è molto più importante. Questa è il secondo romanzo per te? Si parla di due bambini che vivono, hanno i genitori separati e vivono un pochino col padre e un pochino con la madre e quindi fanno la valigia ogni settimana cambiando a casa vede anche per letter perché in Italia esiste la cosiddetta separazione condivisa che vuol dire che i figli abitano con tutti e due i genitori perché in Italia si tratta il pensiero dell'inforzamento che i figli vivono tra i figli e i figli Hai pensato che il senario ha un impatto nella tua scrittura romanziera? Sì, la mia è una scrittura molto di immagini e quando scrivi per la televisione sai che la storia deve sempre andare avanti e mostrare sempre situazioni nuove che tengono viva l'attenzione del lettore Beh, è vero. Ho Scere che la scrittura di Benio è una scrittura molto importante perché la scrittura è un'acchiata di keepsare sempre mai perché è un'acchiata molto valore, perché la scrittura di Bani di Bani di Bani di Scere di Bani di Bani di Cattava Si è parlato del ruoia, del ruoia, del formato del ruoia, è stato in Italia e è stato molto importante nel ruoia del ruoia? Ci ha colpito tanto Umberto Eco con i suoi studi, con i suoi saggi sul romanzo, sulla struttura del romanzo. Anche in Italia viene così preso in considerazione il fenomeno della struttura del romanzo da studiosi come Umberto Eco? Sì, Umberto Eco è morto da poco purtroppo, è stato in questo senso forse l'intellettuale più completo su questi argomenti. Si fanno molti corsi di scrittura creativa, io ne tengo per bambini e si parla molto della struttura del romanzo. Sì. 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 Si vede tanto l'interesse nei confronti dell'età infantile e adolescenziale, questo interesse cosa rappresenta per te? Forse è un legame con la mia passata adolescenza. È un'età alla quale sono rimasta affezionata e poi ho due figli adolescenti e quindi conosco quell'età. Sì. 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 Il primo libro, posso parlare del primo libro, è autobiografico. Sì. Sì. Perché io ho vissuto per un periodo con i figli che vivevano un po' con me e un po' con il mio ex. Sì. 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 Allora, dopo il mio padre ehr o approfondimento fanno i suoi amni e durante le toni prog e tutto questo giovane è sempre chiunque. Sì. 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 Quella è un刀 non compié. Sì. Allora, la prima, a mia figlia. Si è piaciuto. Si è piaciuto molto. Mi Ashley non legge purtroppo, non lo ha letto. Nel senso del binti, mi sembrava dire che il mio figlio non mi piace l'eraio. Voleva che glielo leggessi io, ma mi sono richiutata. Allora, potresti fare uno scritto, uno scelmaggio. Sì, quando io scrivo spero sempre di fare poi dei film o delle fiction. Ma questo dipende dai produttori che sono interessati alla storia. Tornata, quando io ho scoperto, ho scoperto anche questo progetto in mezzo o in mezzo. Ma in mezzo, 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 in mezzo. Ah, 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 ok. Quindi, hai scoperto, hai scoperto di tecchi di Italia, di Italia? Ah, scoperto. Siamo messa di parlersi polveri. Ah, c'è, dal passato Taizia film? Ah, ah. Oh, mia … Manehmer! Non, non ho detto... C'è sono delle conferenze? Non, 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 non Non, 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 non... Nesseremo che ci sono già... Nesseremo una prima giornata Nesseremo una giornata... Nesseremo una giornata di rosa Nesseremo una giornata di rosa Non ho detto, non ho detto Ma il quattro di rosa Non ho detto il romanzo, però quello che è stato scritto È un romanzo È un romanzo Nesseremo una giornata La storia è una giornata di rosa È un romanzo E un romanzo Io scrivo storie comiche, romanzo È un romanzo Il romanzo del romanzo Il romanzo è un romanzo Il romanzo è un romanzo L' romanzo è un romanzo Dariofu 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 Sì, Dario Faux è un uomo di teatro. Dovrei pensare a un narratore, Mark Twain, Dickens, dei narratori anche del Novecento. Che scrivono in modo ironico e leggero. C'è un filo letterario femminile forte in Italia. Esiste questa cosa, questo genere femminile di scrittura, una scrittura femminile ben presente? No, esiste, ci sono molte scrittrici che scrivono di livello alto, però non c'è un genere, c'è il cosiddetto romanzo rosa, però è diverso da questo. Non sopra come dire, parla solo di storie d'amore un po' superficiale. Non posso dire che ci sono una scena che qualcuno ha chiestato della storia interagione dei libri, ma è una scena di fattimento diversità, però non posso dire che ci sono chiude. ma se vuole il nostro corso, ma non potete dicere le sostituhhi, ma semplici, ma semplici non costruire i nostri problemi. Credo che noi Skillo – e per il kindness dell'arrabi – la nostra scelola di Officina, e che hanno visitato il nostro corso. Credo che ho ricevinuto questo romanzo rosso che abbiamo scritto l' телa affinamento più evento più importante. Sì, sì. Io vorrei sapere un po' dell'esperienza da sceneggiatrice. Come scrivi? Io ho lavorato molto in una soppopera italiana e scrivevo i dialoghi. Si chiama Un posto al sole, non so se voi la conoscono. E ho scritto anche serie televisive. Lì è importante soprattutto il dialogo. Non ci sono descrizioni come nella narrativa. Quindi è un altro tipo di scrittura. C'è una storia molto importante in Italia. E l'agrazione più grande è di dialogare. E la storia che è trovata nella narrativa. Grazie a tutti